... Esperimenti di pulizia a Venaria Reale. Ieri, lunedì 23 aprile, è stata fatta da CDU una prova con un macchinario, una sabbiatrice, che ha la capacità di pulire muri e monumenti imbrattati dall'inciviltà delle persone. A spiegare l'esperimento è l'assessore all'ambiente Marco Allase. Allora, oggi abbiamo visto con CDU il funzionamento di un macchinario che CDU sta presentando a tutti i comuni, che si chiama Tag Remover. Tag Remover vuol dire che è sostanzialmente una sabbiatrice che rimuove le scritte fatte con vernici, spray, eccetera, su muri piuttosto che monumenti o altri beni del patrimonio del comune. Abbiamo fatto la prova sia su alcune scritte, sia su alcuni punti del comune, ad esempio sulla Fontana in Piazza Annunziata, piuttosto che su alcuni angoli dove spesso i cani sono lasciati urinare, abbiamo visto l'efficacia di questo macchinario. L'efficacia che però mi preme ricordare funziona molto bene una volta che il danno è stato fatto. Ovviamente la prevenzione, cioè evitare che il danno venga fatto, sarebbe oltre che una norma di buona educazione anche un obbligo per chi insieme a noi vuole aiutarci a tenere la città più pulita e in uno stato più decoroso rispetto a quello che ci troviamo a dover amministrare ogni giorno. Adesso sono solamente delle prove. Il costo di questa operazione? Il costo non è ancora stato esplicitato, nel senso che l'intento era quello di farci vedere l'efficacia di questo macchinario e oggettivamente abbiamo potuto vedere che funziona molto bene. Capito come funziona e dove può essere utilizzato, valuteremo il costo di questa operazione. Grazie per la visione!